e bella raga oggi siamo qui per vedere un nuovo glitch di pxp su fortnite una volta arrivati in creativa ci dirigiamo qua a mettere questa mappa l'ultimate 1v1 mappa e aspettiamo che si parla come potete vedere la mappa ha creativato e ecco qua il codice se entriamo dobbiamo avviare la partita quindi facciamo avviare la partita dopo avviata la partita ci stanno 2 capanne una la e una la quelle la sono tutte quelle cabine telefoniche noi ci dirigiamo nella cabina vicino al change skin color vabbè io me l'ho preso ma non dovrei prenderlo e mettiamo 3 piattaforme dietro proprio ci abbassiamo miriamo qua e spariamo una serie di colpi ecco qua in poche parole spariamo 10 colpi per entrare ci troviamo qua dentro secret rewards sarà appunto dove saranno i nostri xp quindi facciamo interagisci e vedrete che man mano ci darà xp ovviamente gli xp aumenteranno sempre di più e saranno infatti se vedete e se torniamo facciamo go back to 1v1 qua possiamo anche freddare con il nostro amico oppure ci sta appunto disponibile qui la versione con tutti quanti se volete pure freddare mentre fate xp questa è una pappa molto buona fate qualche livello ci sta comunque ci sta quindi raga dopo aver visto questo glitch fantastico per xp io chiudo qui il video e ci vediamo alla prossima